Buongiorno a tutti, gentili delle spettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh, la nostra segna stampa, i titoli di oggi, le principali notizie che ripercorreremo grazie ai servizi di Toscana TV e commenteremo insieme ai nostri ospiti. Buongiorno a tutti, da Andrea Vignolini, è mercoledì 15 febbraio 2023 e noi iniziamo subito leggendo le prime pagine e i titoli del giorno. Partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura, auto green, lite con l'Unione Europea, l'Europa dal 2035, stop a benzina e diesel, Salvini, decisione folle, ambiente via libera definitiva di Strasburgo, contrari partito popolare europeo e conservatori, i timori per l'occupazione. E dunque leggiamo ovviamente sulla prima pagina del Corriere della Sera, stop a benzina e diesel, a partire dal 2035, l'Assemblea plenaria dell'Europarlamento ha votato il provvedimento che vieterà da quella data la vendita di auto e furgoni con motore termico alimentato a benzina o a diesel. Votano contro PPA e conservatori a favore socialisti, decisione folle, commenta il leader leghista Matteo Salvini. Il ministro Adolfo Urso precisa che l'obiettivo è una sostenibilità che garantisca occupazione. E poi sempre sulla prima pagina del taglio alto, dopo il voto si apre la partita delle nomine Meloni, politica estera, la linea non cambia nonostante le dichiarazioni di Berlusconi. E ora l'autonomia, spiega il governatore della Lombardia, Tilio Fontana. E poi Bonaccini, in un'intervista di Maria Teresa Meli, non accetto lezioni. Bonaccini, il PD e la sinistra. E poi sempre sulla prima pagina, CSM, la scelta sarà una donna a guidare la Cassazione. Margherita Cassano, dopo 42 anni trascorsi con la toga sulle spalle, Margherita Cassano, fiorentina di 67 anni, sarà la prima donna della storia chiamata a guidare la Corte di Cassazione, diventando così il giudice più alto in grado del Paese. La nomina è stata proposta ieri all'unanimità dalla Commissione per gli incarichi del CSM. Il voto finale è previsto in plenum con il presidente Sergio Mattarella il prossimo 1 marzo. Poi la prima pagina propone anche la fotonotizia a centropagina. Un treno invisibile, così si muove Putin. Putin, il treno segreto con da sinistra il CEO delle ferrovie Yakuning, il vice ministro Dordovic e il ministro Sokolov. Una rete ferroviaria dunque segreta, con stazioni per raggiungere le sue residenze. Un treno blindato dove lo zar Putin organizza summit con i suoi uomini fidati. E dagli Stati Uniti d'allarme Mosca schiera i suoi caccia e le sue navi con armi nucleari. Andiamo avanti con le altre notizie sulle prime pagine del giorno. Lo facciamo anche con la prima pagina del quotidiano La Repubblica, che ci porta ovviamente ai fatti di giornata. L'apertura riguarda il Partito Popolare Europeo che scarica Berlusconi. Il dopovoto è la crisi ucraina. I popolari europei prendono le distanze per le frasi filorusse. Meloni in difficoltà, vola a Monaco per rassicurare gli alleati, caccia russi e navi nucleari, allarmi per le mosse di Mosca, dubbinato su invio jet e missili a lunga gittata a Zelensky. Intanto la politica con il terzo polo, il gelo tra Renzi e Calenda, il Partito Democratico resiste nelle città. A centropagina la fotonotizia, il reportaggio dal terremoto, viaggio in Siria nel dolore senza fine. Nella foto alcuni siriani scavano le fosse per le vittime del terremoto del 6 febbraio a Idlib. E poi, sempre sulla prima pagina della Repubblica di oggi, auto inquinanti, l'Unione Europea le vieta a partire dal 2035. E poi, a proposito di auto, la nuova Ferrari, pancia snella e muso corto, spiega Repubblica sulla prima pagina di oggi. Andiamo avanti con il titolo del quotidiano La Nazione, con le notizie principali del giorno sulla prima di oggi. L'Unione Europea rottama le auto diesel e benzina. In Parlamento Europeo dal 2035 si venderanno solo vetture elettriche, incentivi, regole e usato. Cosa cambia per gli automobilisti? Protestano Lega e Fratelli d'Italia, una follia. Elezioni in Lombardia, Romano la russa alla destra, spetta la metà degli assessorati. Poi, a centro pagina, l'ultima offensiva, la Norvegia, navi russe con armi atomiche nel Baltico, aerei al confine con l'Ucraina, paura per il rilancio di Putin sul conflitto. E poi, nel taglio alto, le notizie che arrivano dalla Toscana, mio figlio è morto perché nessuno lanciò l'allarme. Da Pisa a Verona, la madre di questo giovane non si arrende. E poi, accorpamenti, la Toscana va alla consulta, la scuola che divide. La questione è quella degli accorpamenti, dei plessi scolastici e dei ricorsi che stanno per fare, o almeno hanno annunciato, le scuole. Andiamo avanti con l'edizione di Firenze, Prato e Empoli del quotidiano Il Tirreno e la prima pagina di oggi. Eccola qua. Mr. Fendi, senza artigiani, diremo addio al Made in Italy. Intervista all'amministratore delegato Serge Brunschwig. Bisogna investire sulla formazione. E poi, a centropagina, la grafica che ricorda il coraggio di Eleonora, l'autoritratto di Eleonora Borzatti, von der Leuvenstein, Livornese, morta a 18 anni, di leucemia. Morì di leucemia a 18 anni. Ecco il suo diario. Claudia Guarino racconta appunto il coraggio di Eleonora nella sua sfida per la vita. E poi, primarie PD, i risultati circolo per circolo, da Firenze a Prato fino all'Empolese, tutti i voti raccolti nei comuni dai candidati DEM. E ne parleremo più tardi perché vedremo ovviamente anche il dettaglio. Andiamo avanti con le altre prime pagine del giorno. Il quotidiano libero, la sinistra, ci lascia a piedi. Via alla stretta sull'auto. Il Parlamento europeo, con l'assenso di PD e Movimento 5 Stelle, approva il bando sui motori diesel e benzina a partire dal 2035. I partiti bastonati dagli elettori in Italia vanno a far danni in Europa. Scandalo a Bruxelles. Potenze straniere pagano le vacanze ai deputati. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano del giornale. Anche qua, autodemolizione europea. Bruxelles conferma lo stop alla produzione di vetture a benzina e diesel dal 2035. Per l'Italia, seconda mazzata dopo le case green. Ma la sinistra esulta, spiega il quotidiano, il giornale in edicolo oggi. Andiamo anche sulla prima del fatto quotidiano. Il titolo di apertura. Il governo assolve Berlusconi anche per Puttanopoli. Meloni pronta a revocare la parte civile pure a Bari. Oggi sentenza a Rubi. L'Avvocatura di Stato parlò di discredito planetario e chiese 10 milioni di danni. Ora i giudici decidono e si tenta di influenzarli. Andiamo con il quotidiano La Verità. Alla prima pagina, vaccini. Il New York Times denuncia la Wonderland. Denarie e salute dei cittadini gestiti con scandalosa opacità. Il quotidiano più famoso del mondo intraprende un'azione legale per conoscere il contenuto dei messaggi tra la capa dell'Unione Europea e il manager dell'Apfizer. Basta segreti sull'acquisto di dosi per miliardi di dollari. E poi a centropagina, la fotonotizia, stavolta sta a casa. Lo dicono i lombardi a Pregliasco. La Virostar, che ha fatto terrorismo catodico per tre anni, è finita trombata nelle urne. Così come spazzata via è risultata tutta la narrazione per salvare Speranza e Conte. Demonizzava la gestione Covid della giunta Fontana. Così spiega il quotidiano La Verità. Andiamo anche sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Il titolo? Auto, stop a diesel e benzina dal 2035. Strette in arrivo anche per tir e bus. La scelta dell'Unione Europea. Infine, Italia Oggi, altro quotidiano economico, tecnici gabbati dal 110%. Gran parte dei professionisti non riesce a riscuotere i compensi da super bonus a causa dei problemi con la cessione dei crediti e dei continui cambiamenti normativi. E dunque, questa è una difficoltà in cui si trovano tantissimi professionisti. Andiamo anche sulle prime pagine del giorno per quanto riguarda la rassegna stampa sportiva. Il Corriere dello Sport Stadio. L'altro italiano è il titolo. Quattro sconfitte in cinque gare. Il tecnico cerca la rivincita in Europa dopo il K.O. di Torino. La Fiorentina a Braga per lo spareggio di conference. Domani in Portogallo alle 18.45. Ballottaggio fra Jovic e Cabral. Riecco, Barak, Igor e Mandragora. Occasione per Brecalo e Sirigu. 2000 tifosi viola in trasferta. Spiega il quotidiano del Corriere dello Sport Stadio nell'articolo di Andrea Giannattazzi. E poi a centropagina Diaz sia lodato. Il Milan affonda Conte ottavi di Champions. Il Tottenham piegato 1-0. Cade il Paris Saint-Germain con il Bayern Monaco che vince 1-0 al Parco dei Principi. E poi nel taglio alto, vedete, presentata è subito in pista la rossa da Mondiale. En Real Ferrari, 100 giri a Fiorano. Leclerc già esulta e pensa in grande un super lavoro. Ora voglio vincere, spiega il pilota della rossa. Andiamo anche sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport con i titoli che riguardano il trionfo del Milan in Champions e non solo. Milan da Diaz è il titolo di apertura. Champions domato il Tottenham 1-0. Grande notte a San Siro. Lo Spagnolo in gol e super difesa l'8 marzo a Londra per i quarti. Complimenti di Conte, il Bayern sbanca Parigi 1-0. E poi, vedete, Eccola, Vairos, Rivoluzione Ferrari per l'assalto a titolo. Eccola SF23, Sisogna, Vasser e un pieno di energia positiva, spiega Gianluca Gasperini, parlando ovviamente della presentazione della nuova Ferrari. E poi richiami in prima anche per quanto riguarda il calcio. Salernitana, a sorpresa Paolo Sosa al posto di Ricola, il portoghese con opzione per altri due anni. Oggi il vertice da piano gentile per quanto riguarda l'Inter. In zaghi, in affanno, i tifosi attaccano. L'Inter è preoccupata. E poi domani contro il Nant, Allegri in missione. Parte dall'Europa il nuovo ciclo della Juve. Ovviamente la Juventus gioca in Europa League. E poi Napoli e il miracolo del più 15. Vi spieghiamo come è nato la capolista di Acon, il distacco record. Questi temi che riguardano il campionato ripresi oggi dalla Gazzetta dello Sport. Ci fermiamo per dare lo spazio alla regia. Torniamo tra pochissimo con tutte le notizie del giorno su Toscana TV e Firenze TV. State con noi. Alla Copp la tua spesa vale di più. Con giorni più buoni per una spesa di almeno 15 euro, hai 5 euro di buono che prendi e usi su tutti i prodotti Copp la settimana dopo. La Copp sei tu. Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili. Il calore naturale per la mia casa. E fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce. Ehi Astra, accendi la luce. Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro. Basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. Ti aspettiamo in filiale. Vieni a cena nei prossimi giorni. Ma sì, i pavimenti, le porte blindate, il rivestimento delle scale, gli infissi. Tutto di Tropical Parquet. Realizzano ogni tipo di personalizzazione, fornendo materiali e posa in opera. Sono in Vialivorno, a Firenze. Sul sito trovi tutte le informazioni. Tropical Parquet. Un parquet così bello che non vorrei coprirlo con niente. Ci sono tanti tipi di tosse. La tosse acuta. La tosse del nonno. E la tosse da vera lady. Vivintosse Complete risponde in modo rapido a tosse grassa, tosse secca e gola irritata. Vivintosse Complete 3 in 1. Diverse tossi, un'unica risposta. Quando i sintomi influenzali ti mettono KO, puoi provare Vivintuo. Rapido contro febbre, congestione e dolori influenzali. Puoi iniziare ad agire dopo 15 minuti. Così puoi passare da KO a OK. Vivintuo, quando il gioco si fa duo. E MENARINI Di nuovo buona giornata gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV. Ben trovati a Refresh dalla segna stampa di oggi. È mercoledì 15 febbraio 2023. Buongiorno da Andrea Vignolini. Abbiamo letto assieme i titoli e le prime pagine del giorno. Adesso è il momento di leggere le notizie all'interno dei quotidiani. Siamo a pagina 2 del Corriere della Sera. La Premier è il dopo voto. Si va avanti anche su Kiev. Berlusconi scaricato dal BPA per le sue frasi sull'Ucraina. Io a favore di quel popolo, ma la guerra pericolosa per tutti. In alto fronte le opposizioni restano spaccate. Renzi esito peggiore delle aspettative. E poi, ancora all'interno del Corriere della Sera, dove si fa il bilancio delle elezioni con i numeri di Lazio e Lombardia, il governo dovrà sciogliere il nodo della direzione del Tesoro, l'idea di aumentare il numero delle donne ai vertici, perché adesso la prima partita sarà quella delle nomine. Deciderà Palazzo Chigi. Ma attenzione, all'interno dell'articolo di Francesco Verderami, che cura il retroscena sul Corriere della Sera, scrive chi morde il freno è Berlusconi, che non vuole fare la parte dello spettatore e si promette di seguire personalmente la partita delle nomine, senza delegarla ai suoi ministri. L'ha fatto sapere a Tajani, tratterò io e tanto basta per alimentare la narrazione di una Forza Italia dei partiti, una Forza Italia di governo. Ecco perché il Cavaliere ha ricordato il metodo della collegialità dei tempi in cui sedeva lui a Palazzo Chigi. Ed ecco il motivo per cui ieri, in una dichiarazione, ha detto che con Meloni e Salvini ci vedremo a breve per discutere del nostro programma di lavoro. Nel Palazzo l'hanno inteso come un messaggio agli alleati per evitare di destare escluso. E quindi Berlusconi vorrà dire la sua sulle nomine. Andiamo avanti a pagina 4 del Corriere della Sera con le regionali. In 5 mesi sono spariti 3 milioni di voti. Fratelli d'Italia, primo partito quasi ovunque, città del nord al Partito Democratico. Vedete praticamente la composizione del voto, dove primeggia Fratelli d'Italia, dove la Lega, dove il PD e dove azione. Italia vive, quindi il terzo polo. Milano, Brescia e Bergamo idem. Il centro-destra domina Roma. Le eccezioni del centro, l'area ZTL della Garbatella. Il quartiere di Meloni, spiega il quotidiano Il Corriere della Sera. Poi è tornato il bipolarismo, spiega Salvatore Vassallo, direttore dell'Istituto Cattaneo, ma il blocco della sinistra paga divisioni e veti. Vassallo dice, tanti fattori, dietro la scarsa affluenza. E poi ovviamente in questa intervista spiega i dati. C'è un'intervista anche a Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Partito Democratico di Maria Teresa Meli. No a un partito minoritario, serve un PD che torni a vincere. Bonaccini, la nostra gente non vuole una forza di protesta, ho sempre lottato per le classi popolari, non prendo lezioni di sinistra. Sull'opposizione unita dice, non ho l'assillo di costruire un'alleanza a tavolino, ma se sarò eletto segretario e incontrerò il leader di 5 Stelle e Terzo Polo, credo che organizzare almeno un'opposizione più efficace sia indispensabile. Poi il gruppo dirigente, praticamente tutto il gruppo dirigente che in questi anni si è alternato tra incarichi di governo e guida il PD, oggi non sostiene me. Ed è comprensibile. Essere liberi non può essere una rivendicazione, deve essere un fatto. E poi quello che accade nel Terzo Polo, lo spiega Claudio Bozza, Renzi e Calenda si giocano tutto alle europee dopo il flop alle regionali. Andiamo avanti con ovviamente anche i promossi e i bocciati di queste elezioni regionali. Cambia la composizione dell'aula, 22 eletti per Fratelli d'Italia, non passa l'ex 5 Stelle De Vito, candidata nel partito di Meloni. Questo accade ovviamente nel Lazio, il primato di Righini e Angelilli di Fratelli d'Italia, Bene Leodori, già vice di Zingaretti, flop per Bergamo e Renziano Nobili, che forse ce la potrebbe fare a rientrare per il riconteggio delle schede. Allora, auto, diesel e benzina, siamo a pagina 16 del Corriere della Sera. Il Parlamento europeo decide lo stop dal 2035. Salvini, una scelta folle, voto contrario di Partito popolare europeo e conservatori a favore e socialisti, timori per l'impatto sulle fabbriche. Il ministro Urso a Stellantis, tutelare la filiera italiana. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha partecipato al primo tavolo tra governo Stellantis e sindacati. Andiamo avanti con ovviamente i temi che riguardano appunto questa scelta dell'Unione europea, politica industriale o la transizione verde toglierà molti posti. Uliano di Fim Cisle, investire e convertire le competenze. Oggi la filiera è posizionata per il 55% sui motori a benzina e per il 59% su quelli diesel. E poi domande e risposte. Biocarburanti e idrogeno sono un'alternativa all'elettrico? Esiste un piano di incentivi? Domande e risposte che potete leggere oggi sul Corriere della Sera. E poi due notizie. La prima riguarda invece Acea, la società che si occupa ovviamente della gestione dell'acqua, l'energia e l'ambiente a Roma, ma non solo. La presidente Michela Castelli, che è stata nominata presidente di Acea il 21 giugno del 2018, lascia per le divergenze con l'amministratore delegato Palermo. Roma, la manager, parla di motivi personali, sullo sfondo il via libera al termovalorizzatore, ma in realtà, poi vedremo su Repubblica, la motivazione è completamente diversa. Poi c'è anche la sfida di Lady Inzaghi, con 1500 ragazzi, ho pulito il lungomare di Reggio. Parla ovviamente Angela Robusti, compagna di Pippo Inzaghi, dal comune neppure un grazie. Allora, praticamente racconta di come in realtà, vivendo a Reggio Calabria, si era resa conto del dissesto della città. Diceva, in città, dice, ci sono buche da 30 centimetri, delle radici degli alberi sbucano trasformando le strade in un meraviglioso museo a cielo aperto, poco comodo per chi come me gira con il figlio nel passeggino. Parte un'iniziativa, praticamente, che lei chiama Io amo Reggio, per, diciamo così, rimettere un po' in sesto la città, e un ragazzo che si voleva candidare alla rappresentanza degli studenti dello scientifico da Vinci le chiede se poteva inserire nel programma qualcosa che legasse il liceo alla pulizia dell'ambiente. E così ha buttato giù quest'idea di pulire il lungomare di Reggio. Dice, i docenti entusiasti, ma che? La maggior parte si è ribellata, fa freddo, non è sicuro, è pericoloso, perfino duecento genitori si sono posti. E come l'ha spuntata? C'è stata una votazione tra studenti, avrebbe partecipato solo chi voleva, 304 ragazzi, allora ha coinvolto il professionale Piria e lì hanno aderito tutti, mille più una cinquantina di professori. Gli studenti fino alla quarta abbiamo affidato il litorale del centro, mentre le quinte le abbiamo portate nel quartiere Marconi, che è più difficile. La Tecno Service Italia, che ha l'appalto per la pulizia dei rifiuti, ci ha fornito gratis sacchetti, palette, guanti e rastrelli. Per questo si è pulito il lungomare di Reggio. Storia particolare, quella che racconta la compagna di Pippo Enzaghi oggi al Corriere della Sera. Andiamo invece all'interno di Repubblica, con intanto le ripercussioni politiche dopo le parole di Berlusconi. Berlusconi nell'angolo, il PPE lo scarica con la sponda di Meloni. I popolari respingono fermamente i suoi attacchi a Zelensky, questo accade in Europa, intesa con Fratelli d'Italia, la Premier in visita a Monaco e forse a Kiev. Il Cavaliere voglio la pace, Salvini lo difende. E poi all'interno ovviamente del quotidiano La Repubblica ci si occupa del Lazio, Rocca, governeremo per dieci anni, primi segnali alla sanità privata. E ancora Meloni fa l'impresa e ora gli industriali tornano statalisti. Questo accade in Lombardia, Varese, Feudo di Fontana ed ex Culla Leghista, certifica il primato di Fratelli d'Italia. Giorgia non le manda a dire, serve gente che ci difenda in Europa. E poi ancora, sempre all'interno del quotidiano, il Corriere della Sera, la Repubblica, scusate, tante analisi, siamo a pagina dieci, invisibili e poco stimati, ecco perché i partiti hanno perso gli elettori. Nel taglio basso, i sondaggisti, il non voto colpisce di più a sinistra. Cattaneo ha influito il risultato scontato, SVG, i sostenitori del centro-destra, compatti. E poi vincitori e sconfitti. I Meloniani fanno il pieno, nel Lazio Nobili escluso. E poi entra Feltri al Pirellone, fuori Gallera, l'ex assessore al welfare e Pregliasco, appunto, candidato del centro-sinistra. Poi spiega, ovviamente, Repubblica, in realtà, che da un lato fa fuori Nobili, dall'altro spiega nell'articolo sul terzo polo che Nobili è in bili con i conteggi interni. Comunque, siamo a pagina dodici, centristi, crepe nel terzo polo, Renzi non vuole più calenda nel logo. Il leader di azioni, gli elettori non hanno sempre ragione e intanto Italia Viva si potrebbe prendere quattro dei cinque eletti del terzo polo tra Lazio e Lombardia. Poi, occupiamoci invece di quello che accade in Rai, l'intervista alla consigliera in quota PD, Francesca Bria, la Rai resti libera, rimuovere i vertici sarebbe una forzatura. Chiedere a chi guida il servizio pubblico di limitare la libertà di espressione è una censura preventiva, così Francesca Bria, in quota Partito Democratico, nel Consiglio d'amministrazione Rai. Andiamo avanti con pagina 16, l'economia, bitcoin e company, le antimonete liberano solo i criminali. Le cripto, nate come alternativa al sistema finanziario, non mostrano alcuna funzione sociale e la loro segretezza piace solo all'economia nera. L'impatto ambientale dei valuti virtuali è pesantissimo, per crearne una si consuma l'energia utilizzata in 13 anni da una famiglia media, spiega il quotidiano La Repubblica in edicola oggi. E poi ci si occupa invece della tragedia dopo il sisma in particolare in Turchia, nelle pagine interne, siamo a pagina 18, tra le macerie della Siria divisa, siamo rimasti soli, vogliamo fuggire. Nel nord-ovest, devastato da 12 anni di guerra e in mano ai ribelli filo-turchi, il sisma ha raso al suolo città e villaggi, non si sa neppure come scavare e gli aiuti tardano ad arrivare. Guardate le immagini ovviamente della devastazione di questi villaggi della Siria. Senza il Qatar e l'Arabia Saudita la situazione sarebbe stata un disastro, per nove anni siamo stati bombardati da Assad. Incredibile, ovviamente le immagini che arrivano dalla Siria. Poi la vicenda a CEA in realtà riguarderebbe, per le dimissioni di Michela Castelli, lo scandalo hostess. Donne umiliate, la Presidente se ne va. L'inchiesta di Repubblica svela le regole sciocchi imposte da alcuni dipendenti, dall'amministratore delegato Fabrizio Palermo e dopo pochi giorni di polemiche Castelli si dimette. Eccoci qua, le accuse che hanno fatto deflagrare il caso, il campanello per convocarle e i tacchi secondo le occasioni e ci faceva sbucciare le mele. Ma il tè scaldato nel microonde voleva che fosse preparato solo con il bollitore. Queste regole molto ferre hanno fatto scattare un problema di trattamento delle hostess e quindi la Presidente avrebbe deciso di dimettersi. Poi congratulazioni ovviamente a Margherita Cassano, da Firenze alla Cassazione, al Palazzaccio. In Cassazione una Presidente donna si rompe un altro tetto di cristallo. Margherita Cassano è stata PM a Firenze e nella stessa città Presidente della Corte d'Appello succederà a Pietro Curzio al vertice della Cassazione. E poi ancora, sempre con le notizie che leggiamo all'interno di Repubblica, l'Italia che si cura da sola la corsa post-Covid ai farmaci senza ricetta. Il ritorno dei malanni di stagione spinge le vendite, è il record, ma i medici avvertono, è meglio consultarci. E Repubblica spiega quali sono i dieci farmaci che vengono richiesti in questo momento, i dieci principi attivi più acquistati in questo momento nelle farmacie. Dunque, questi ovviamente i titoli di Repubblica. Andiamo anche all'interno del quotidiano La Nazione con i titoli del giorno e le notizie principali. Poi vedremo anche quelle che arrivano dalla Toscana. Intanto si parla ovviamente a pagina 2 e 3 della svolta elettrica. Dal 2035 basta auto a benzina e gasolio. Il governo parla di eurofollia. Giro di vite anche per i mezzi pesanti. Zero emissioni dal 2040. L'ira della destra, migliaia di posti di lavoro sono a rischio. E poi ancora, il futuro delle macchine inquinanti potranno continuare a circolare. I veicoli con motori termici potranno anche essere rivenduti. Il rischio aumenteranno i costi di manutenzione. Ancora sempre all'interno del quotidiano La Nazione lo stile papete è solo un ricordo. Il capitano in cravatta risale la china. L'evoluzione di Salvini premiato dal voto meno provocazioni e toni urlati immagine più sobria. La nuova dimensione del capo leghista cristallizza i rapporti di forza all'interno della maggioranza. E poi il PD invece è l'incubo del gazebo alla prova del voto con le primarie del centro-sinistra verso le primarie del 26 febbraio con la paura del flop. Resta il rebus alleanze. Vaccari oltre il milione di partecipanti nessuno parlerà di fallimento. Ellie Schlein punta sui delusi e arrabbiati per rovesciare i pronostici ma i fan di Bonaccini non hanno dubbi. Stefano è già segretario. E poi nel taglio basso quello che accade nel terzo polo Renzi rilancia avanti tutta. Il leader di Italia Viva risultato sotto le aspettative ma il progetto del terzo polo resta. Andiamo avanti sempre con invece anche la prova del voto e le ripercussioni in Toscana. Due interviste a Antonio Mazzeo che è presidente del Consiglio regionale della Toscana e ovviamente è soprattutto il portavoce della mozione Bonaccini in Toscana. Ora cambiamo tutto. Con Bonaccini torniamo a parlare del Paese Reale. Il centro-destra con Francesco Torselli di Fratelli d'Italia. Nome, squadra ed è il piano di Fratelli d'Italia. Prendiamo la regione. Allora, vediamo subito le ripercussioni del voto in Lombardia e Lazio anche sulla Toscana con il servizio di Toscana Tg che è il numero uno regia. Grazie. Ogni elezione ha valore soltanto per sé e fare paragoni è sbagliato. Eppure al mantra classico post-suffragio si contrappone una prassi da cui non è esente neanche la Toscana. Perché se le due regioni al voto come era previsto sono andate al centro-destra l'eco dei risultati finisce per inquinare la discussione sul congresso del PD anche quello regionale. Il gioco facile un po' per entrambi gli schieramenti che fanno capo a Bonaccini e Schlein è dire che il risultato di Lazio e Lombardia è l'ultimo atto di una classe dirigente del PD che ha fallito e che quindi si può rapidamente archiviare per fare spazio a quelli nuovi. Tuttavia la geografia politica del centro-sinistra è un po' più complessa di così. Vale ad esempio per il fronte alleanze. Al di là della classe dirigente che lo governa il PD dovrà sempre scegliere con chi stare se vorrà provare a vincere. Ebbene a Roma ci ha provato con il terzo polo a sostegno del candidato D'Amato e l'apporto del centro ha portato meno del 5% dei consensi. A Milano invece era coi 5 stelle finiti anche peggio al 4%. Scenari certamente locali che però sono indicativi della direzione che il prossimo PD prenderà a seconda di chi sarà segretario. Continuerà a essere subalterno a forze politiche minori che gli stanno di lato tentando di logorarlo o proverà a dettare l'agenda? Perché i numeri circa il 20% della sola lista PD in entrambe le regioni raccontano di un partito ancora vivo anche a scapito di chi dall'interno sperava in una debacle ancora maggiore per segnare un domani la discontinuità. Oltre alle alleanze poi c'è il tema della classe dirigente perché nel segno di quanto avvenuto in Lombardia e Lazio c'è chi vorrebbe mettere sullo stesso filone delle sconfitte annunciate anche la Toscana. Lo ha fatto a suon di meme il candidato alla segreteria regionale Fossi e gli ha risposto a stretto giro la competitor Valentina Mercanti ricordandogli che lui stesso finora è stato coordinatore dei dem in Toscana. Ma intendiamoci i padrini e i notabili del partito stanno da una parte e dall'altra e a dirla tutta la battaglia che in queste ore si gioca su chi dei due ha più big alle spalle un governatore e tre sindaci di qua cinque assessori e due deputati di là e via dicendo è piuttosto stucchevole. Che sul congresso toscano del PD agiscono gli interessi amministrativi e strategici di una regione è normale così come il fatto che esistano cabine di regia tutt'altro che vergini che spingano l'una o l'altra candidatura. Non è che nel volersi per forza raccontare nuovi si finisce per confondere chi dei riferimenti politici li necessita? Non è che uno dei problemi del PD sta proprio nel volersi ogni volta ad ogni sconfitta a raccontare diverso da prima col risultato di aver avuto nove segretari e sei congressi in quindici anni dimenticandosi troppo spesso che un popolo elettorale esiste anche un metro fuori dall'ingresso del circolo? Andiamo avanti con i titoli ovviamente del quotidiano La Nazione insulti razzisti contro l'arbitro lui sospende la partita e se ne va offese dagli spalti dopo l'assegnazione di un rigore bersaglio il direttore di gara originario della Guinea all'indignazione del presidente della FIGC e l'effetto di una cultura becera va espulsa dal nostro sistema e questo spiega ovviamente il quotidiano La Nazione riportando la vicenda del 35enne Mamidi Sissè è un arbitro della sezione di Treviso già nel 2018 era stato oggetto di insulti razzisti durante una partita di calcio poi ancora sempre all'interno del quotidiano La Nazione la scuola che divide no agli accorpamenti regione contro governo fermiamo questi tagli la parola alla consulta e il governatore Gianni parla di implicazioni preoccupanti per quanto riguarda l'accorpamento degli istituti scolastici siamo ancora all'interno della parte economica del quotidiano La Nazione con il presidente della Repubblica Mattarella che spiega la Nazione mano tesa ai giornali aiuti per garantire l'informazione Mattarella favorevole all'intervento pubblico favorisce il pluralismo e la qualità andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano La Nazione di Firenze il titolo di apertura statuto speciale tramvia verde e servizi fanno del rione dello statuto un'eccellenza della città ma qualche problema resta parcheggiare è quasi impossibile e poi la cronaca violenza su sette ragazzine al maneggio vittime allieve tra i 9 e i 16 anni che seguivano lezioni in un centro equestre della provincia chiesto e rinvio a giudizio per un sessantenne nel suo cellulare immagini e video pedopornografici e poi nel taglio alto alberi a rischio moderato a Firenze sono più di 26 mila gli altri 50 mila senza criticità andiamo ovviamente a pagina 4 la città che si trasforma tram a Campo di Marte piante giù pochissime e sul tragitto ascoltiamo il parere dei residenti parla il presidente del quartiere 2 Michele Perguidi che rassicura i cittadini a breve il progetto definitivo che illustreremo metro per metro anch'io preoccupato per i cantieri lunghi vigileremo sui lavori e poi nel taglio basso i guai di Borgo San Frediano questa sera all'assemblea alla sala delle Leopoldine in Piazza Tasso ne abbiamo parlato anche venerdì con l'assessore Giorgetti questa sera dunque alle 20 alla sala delle Leopoldine in Piazza Tasso 7 si terrà un'assemblea degli abitanti di San Frediano il comitato che ipotizza circa 40 immobili potenzialmente a rischio con l'attuale situazione sta aprendo un dossier da presentare in comune per evidenziare i problemi e i danni alle abitazioni alla strada e le segnalazioni già inviate agli enti preposti questa sera dunque ci sarà il faccia a faccia tra Palazzo Vecchio e i residenti poi siamo a pagina 5 occhi puntati sul verde la mappa del comune sono 26.300 gli alberi a rischio moderato e poi abbiamo parlato anche venerdì con l'assessore Giorgetti scudo verde sia i controlli ma non i pedaggi il sindaco Nardella nel corso della sua diretta ieri alle di radio ha spiegato diciamo che ci saranno controlli ma non pedaggi si rilancia sul tema dell'ambiente il governo però sottovaluta il problema poi siamo sul caso del maggio l'ultimatum dei revisori altri debiti e si scioglie la fondazione nella relazione al ministero si contestano le spese di rappresentanza e l'utilizzo della carta di credito poi ancora sempre con la notizia di cronaca ragazzine molestate al maneggio è il titolo della nazione all'interno sette allieve tra i 9 e i 16 anni prendevano lezioni in un centro equestre della provincia di Firenze la procura chiede rinvio a giudizio del sessantenne no alla perizia psichiatrica nel cellulare dell'indagato trovati due video e sette immagini pedopornografiche spiega il quotidiano la nazione e poi andiamo a pagina 10 mezzo secolo d'amore festa in palazzo vecchio per 600 coppie super nozze d'oro nel salone dei 500 fra sentimento emozione e ironia e anche fiesole la strassigna e bagnarripoli rendono omaggio alle unioni più durature e su questa notizia sulla giornata di ieri in palazzo vecchio ci vediamo il servizio di Toscana TG che è il numero 10 grazie è ormai tradizione del comune di Firenze quella di ospitare le coppie che festeggiano le nozze d'oro quest'anno erano 600 così tante che sono serviti tre turni tutti nel salone dei 500 accolti dal sindaco che si è esibito per loro a fare da chaperon i due innamorati per eccellenza della storia fiorentina Cosimo e Eleonora secondo i quali il segreto per rimanere assieme una vita è rispetto e grande affezione concordano gli sposi del 73 Qual è il segreto? rimanendo accanto volersi bene tolleranza vabbè anche affetto tanto amore lei ha trovato proprio la sua metà ma certamente certamente una gran fortuna eh sì ma il vero segreto è uno solo pazienza ci vuole tanta pazienza pazienza da ambo le parti però eh ci si sopporta e ci si supporta mariti tutti santi scherza Marcello dalla prima fila gli posso dire questo segreto io con lei non ho mai ne litiato io sì però un crurito alle mani non ce l'avete mai avuto sì no fino a ora no ora che siamo in pensione si sta tutto il giorno in casa insieme sì pronti per i prossimi 50 anni insieme? sarà dura se già prenotava tutto per i prossimi 50 anni che giorno vi siete sposati? 22 settembre 22 settembre ah sì no 9 settembre signora non si ricorda quando si è sposata? tra le coppie c'è anche chi è ormai sul podio delle nozze di titanio i 70 anni di matrimonio come Mario e Maria sposati giovanissimi erano altri tempi oggi si stancano facilmente ognuno vuole vivere la sua vita come le pare giovani bisogna adeguarsi ai tempi non si può dare un consiglio di seguire la nostra strada no il clima è di festa la fila per farsi una foto con i granduchi lunga le rose di col diretti pronte per le signore poi il palazzo è tutto per loro per una visita gratuita e andiamo avanti con ovviamente i titoli all'interno del quotidiano la nazione di Firenze Scandicci pelletteria caccia agli operai dalle mani d'oro il settore è in crescita ma le aziende non trovano artigiani qualificati e tra i talent scout delle griff scatta la corsa per accaparrarsi i migliori spiega il quotidiano la nazione nella parte di Scandicci siamo ovviamente al quotidiano la Repubblica di Firenze rivedere il progetto Franchi la frenata di Sgarbi dopo la discesa in campo di Icomo assente consultivo dell'UNESCO il sottosegretario intende chiedere una nuova valutazione alla sovrintendente Mannardella sullo stadio dice avanti a tutta velocità e poi a centropagina dal Vaticano la promessa di aiuti la gioia di Don Biancalani tra i migranti dalla parrocchia di Vico Faro in provincia di Pistoia ieri abbiamo letto ovviamente l'articolo sul Tirreno i circoli bulgari dove i due sfidanti hanno stravinto la storia per quanto riguarda le primarie del PD e poi giustamente Margherita Cassano da Firenze alla presidenza della Cassazione una fiorentina alla guida della Corte di Cassazione il tetto di cristallo si è rotto e per la prima volta nella storia d'Italia sarà una donna a guidarla si tratta di Margherita Cassano attualmente presidente aggiunto della Suprema Corte un altro significativo passo avanti dopo l'elezione del 2019 a presidente della Corte Costituzionale di Marta Cartabia questo spiega Ernesto Ferrara su Repubblica Oggi e poi la notizia che riguarda invece domani la sfida in Portogallo conference 2000 tifosi viola dentro lo stadio nella roccia spiega Matteo Dovellini su Repubblica di Oggi e poi ancora all'interno del quotidiano la Repubblica pagina 2 Liti e veleni nel PD dopo il voto Fossi e il cartello che fa infuriare tutto c'era scritto basta perdere l'ira dei monaciniani intanto Tomasi di Fratelli d'Italia nel 2025 vinciamo noi ma partiamo proprio dalle dichiarazioni del sindaco di Pistoia Tomasi che ieri ha fatto anche a Toscana TG precisando che il centro-destra unito vince le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio dimostrano ancora una volta che il centro-destra necessita di unità così il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi che è stato confermato alla guida della città toscana a giugno dello scorso anno con una vittoria secca al primo turno sostenuto da tutto il centro-destra commentando i risultati delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio che hanno visto vincitore il centro-destra unito lo schema è vincente e soprattutto è anche un segnale al governo di fiducia in che senso sono soltanto tre mesi io non ho visto fare miracoli a nessuno in tre mesi l'importante è dire la verità ai cittadini stiamo lavorando ci sono situazioni molto critiche la situazione internazionale è molto complessa però siamo testa bassa a lavorare cercando ogni giorno di risolvere un problema e questo penso sia passato e quindi siamo stati premiati anche in queste due regioni e per quanto riguarda la Toscana dove si voterà nel 2025? diciamo che la verità è chiara a tutti gli schieramenti ogni luogo è contendibile ogni città ogni regione e sempre più prevale sull'ideologia un'appartenenza consolidata le idee i progetti e le persone quindi è presto e soprattutto quello che conterà saranno le idee che uno mette in campo Lombardia e Lazio evidentemente hanno funzionato hanno funzionato anche le persone perché Lombardia è stato riconfermato Fontana nonostante avesse subito durissimi attacchi in questi anni durante il Covid evidentemente i cittadini hanno portato il suo lavoro positivo andiamo avanti con i titoli all'interno del quotidiano Repubblica di Firenze viaggio tra i circoli bulgari Balducci Isolotto per Schlein San Gimignano per Bonacini i due sfidanti alla segreteria sono divisi in Toscana da appena 5 punti ma la mappa delle preferenze cambia a seconda delle aree e vengono ovviamente analizzate sul quotidiano della Repubblica poi rivedere il progetto Sgarbi vuole un summit sullo stadio Franchi il sindaco stiamo correndo come l'alta velocità e siamo oltre il punto di non ritorno dopo la discesa in campo di Icomos nel denunciare il pesante impatto del restyling sull'opera originaria di Nervi anche Italia Nostra si schiera dalla stessa parte il sottosegretario Sgarbi spiega che amerò Ranaldi per chiederle di riprendere in mano la pratica per una valutazione e poi nel taglio basso Nardella contro Autoline Toscane ieri durante la diretta di Ledi Radio l'emergenza autisti non è risolta come è possibile dopo un anno il primo cittadino ha protestato per il servizio non soddisfacente ed è tornato a promettere il tram gratis per gli studenti e poi arrivano alla regione 25 milioni per ridurre le liste d'attesa serviranno a pagare gli straordinari del personale per avere più pacchetti di prestazioni in convenzione cadono così i teti di spesa per i privati intanto è allo studio la revisione del sito internet per le prenotazioni online e ancora ovviamente all'interno di Repubblica la commissione sanità niente certificato medico per rientrare in classe la proposta di legge è varata ovviamente dalla commissione sanità parla il presidente sostegni che dice la proposta di legge riscuote anche un largo consenso da parte dell'organizzazione dei pediatri che evidenziano l'inutilità e l'appesantimento burocratico della certificazione per il rientro a scuola andiamo avanti con invece una vicenda che riguarda Prato l'ira degli operai l'avvertenza gegei talpizza perdiamo tutto poi la fumata bianca concessa la cassa integrazione da un giorno all'altro senza lavoro in 65 tra loro sei coppie occupate nell'azienda di Prato ieri mattina presidio davanti alla regione non dormiamo più abbiamo figli e muti e alla fine arriva la svolta ma la lotta continua intanto in Valtiberina e Valdichiana a Bocca cerca operai agricoli 74 posti di lavoro per la raccolta delle erbe nell'ecutamento della manodopera l'incognita dei collegamenti verso il sito produttivo e poi una notizia che riguarda invece il mercato immobiliare gelata sui mutui fino a 70 mila euro per comprare un box in Toscana i prestiti in calo a doppia cifra percentuale dopo ovviamente il rialzo dei tassi ovviamente è la percentuale maggiore nel paese nel paese tanto che ovviamente che intanto aumentano anche i prezzi delle rimesse auto e si arriva a spendere fino a 70 mila per comprare un box auto spiega Repubblica nelle pagine interne di oggi ci fermiamo per dare lo spazio alla regia torniamo tra poco ancora con il refresh con tutte le notizie che arrivano da Firenze dalla Toscana e i nostri ospiti restate con noi su Toscana TV e Firenze TV Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli Cominciamo con il meteo prudenza per nebbia e banchi su gran parte della Toscana in particolare in A11 tra Monte Catini Termo e Pisa Nord e sull'intero taracciato della Firenze e Pisa Livorno la mobilità possibili disagi in A1 tra Calenzale e Via 1 variante verso Nord in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola verso Firenze in Fipili tra La Strassigna e Firenze Scandicci siamo al traffico urbano di Firenze per un nuovo allaccio all'acquedotto via Siena quest'oggi 15 febbraio sarà chiusa tra via Sinalunga e via Pienza in area alternativa via Sinalunga via Pienza via Siena termine previsto 21 febbraio Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana città metropolitana di Firenze e comune di Firenze per ora è tutto buon viaggio L'Ustrino Flortec per trattamenti di ogni tipo di pavimento lavaggi di fondo e di fine cantiere chiamalo 0574 19 40 524 Sì la casa è a posto vieni a cena nei prossimi giorni Sì i pavimenti le porte blindate il rivestimento delle scale gli infissi tutto di Tropical Parquet realizzano ogni tipo di personalizzazione fornendo materiali e posa in opera sono in via Livorno a Firenze sul sito trovi tutte le informazioni Tropical Parquet un parquet così bello che non vorrei coprirlo con niente eccoci qua gentili telespettatori ben trovati a Refresh le notizie del giorno da Firenze e dalla Toscana su Toscana TV e Firenze TV buongiorno da Andrea Vignolini e ben trovati stiamo leggendo le pagine interne dei quotidiani locali riprendiamo dalla prima pagina del Corriere Fiorentino il titolo di apertura Firenze Fiera allarme sul debito oltre ai 12 milioni necessari per ricapitalizzare ne spuntano altri 16 per l'affitto della Fortezza dunque Firenze Fiera la società che gestisce la Fortezza e che ha le prese con un progetto di rilancio deve fare i conti con un debito di 16 milioni di euro bisogna garantire la continuità aziendale risolvere il nodo Fortezza e quello finanziario ha detto il Presidente Beccattini il bilancio 2022 si chiuderà in rosso e poi nel taglio alto vedete la classifica dei giganti di Airbnb in 20 gestiscono mille appartamenti affitti turistici in ardella convoca parlamentari a Palazzo Vecchio il super host regole più severe no problem ci sono gli studenti americani e poi il residente superstite in un palazzo di tutti i appartamenti che vengono dati in affitto ai turisti loro guadagnano io pago costi e danni dei turisti spiega questa residente poi si parla anche di Sant'Ambrogio lavori al via da metà marzo obiettivo di dicembre 2024 e poi a centro pagina la Fiorentina che gioca contro il Braga parla un grande ex Viola Lugno Gomez il Braga forte e tecnico ma i Viola possono vincere la conference domani torna la Coppa Italia il grande ex fa le carte alla partita andiamo avanti con i titoli del giorno all'interno a pagina 2 Airbnb in 20 controllano mille alloggi il record di Edoardo e Michela con 170 sono alberghi diffusi ma senza le imposte degli hotel Nardella entro marzo un vertice a Palazzo Vecchio con tutti i parlamentari allora cosa si spiega che praticamente questa capolista Homs in Florence ha sia appartamenti di proprietà sia in gestione ma la maggior parte sono in gestione come spiegano la sede societaria e praticamente dicono che qualora fosse diciamo così il punto principale spiegano ovviamente la peculiarità di gestire 170 alloggi in 20 in 20 tra in 20 società controllano mille alloggi questo è il numero ovviamente per quanto riguarda l'accoglienza a Firenze il super host parla la società in questo caso Itzy con sede in via dei Vecchietti e spiega che secondo l'insider B&B controlla ben 102 appartamenti spiega Francesco Cendali amministratore ho 102 case in gestione norme più severe affitterei agli studenti americani i fiorentini si arrivano dal centro non per colpa nostra ma per il degrado e perché non ci sono parcheggi non siamo un albergo diffuso non offriamo servizi ma paghiamo IVA e tassa di soggiorno e poi parla l'ultima superstite sono l'ultima abitante i costi dei turisti li pago io loro ci guadagnano i gestori dei 7 appartamenti del palazzo guadagnano io pago i danni dei loro ospiti non vado più a delle riunioni di condominio sono in minoranza e a loro di me che vivo qui non interessa niente questo racconta Clara che abita in un palazzo storico vicino a Piazza San Marco dove praticamente è l'unica residente tutti gli altri appartamenti sono in affitto ai turisti poi siamo a pagina 4 Firenze Fiera allarme sui conti per 16 milioni di debito in più il nodo è l'affitto della fortezza e il presidente Beccatini garantire la continuità il futuro la trattativa con Milano potrebbe chiudersi entro l'anno da rifare il piano industriale e poi i lavori allo stadio Nardella rassicura e Viola anche l'anno prossimo giocheranno a Franchi poi rischio rallentamenti spiega il sindaco di Firenze Dario Nardella e proprio sullo stadio Artemio Franchi sull'incontro tra la Fiorentina e Commisso ci vediamo il servizio di Toscana TG che è il numero 5 regia grazie non è mai mancato diciamo il rapporto di rispetto e di collaborazione e oggi è molto forte abbiamo parlato di tanti progetti per il futuro visto Commisso molto molto in forma desideroso di costruire sempre nuovi progetti per il futuro contento di questo grande risultato del Viola Park e anche per lo stadio ci siamo confrontati su tanti aspetti così il sindaco di Firenze Dario Nardella che ieri ha incontrato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso incontro definito dal primo cittadino molto positivo a proposito della realizzazione del progetto di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi Nardella ha detto che si è conclusa la gara pubblica per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'avvio dei lavori quindi siamo ormai oltre il punto di non ritorno lo stadio Franchi si farà il primo di questi è che la Fiorentina farà il prossimo campionato al Franchi anche se cominceremo i lavori entro quest'anno ma faremo in modo che la squadra possa giocare tutto il campionato fino cioè alla metà dell'anno prossimo poi per i due campionati successivi stiamo lavorando insieme per trovare una soluzione che possa conciliare diciamo le attività della squadra con i lavori dello stadio che devono assolutamente finire entro il 2026 la partecipazione però della Fiorentina a tutta l'area commerciale credo che sia una valutazione che la Fiorentina si riserverà di fare non ne abbiamo parlato ieri ci siamo concentrati sul tema stadio e anche su Viola Park peraltro ci siamo sentiti col sindaco di Bagnarripoli è anche in via di risoluzione il tema del parcheggio delle auto che accederanno al Viola Park stiamo correndo anche lì per fare poi il parcheggio definitivo scambiatore per la tramvia insomma tutto prosegue devo dire stiamo andando molto veloci c'è un clima di grande sintonia proseguiamo con i titoli di oggi lo facciamo all'interno del Corriere Fiorentino con uno dei simboli ovviamente di Firenze che è il mercato di Sant'Ambrogio a metà marzo via i cantieri per il nuovo Sant'Ambrogio si parte dal pavimento da novembre alcuni banchi in piazza Annigoni spiega il quotidiano il Corriere Fiorentino poi la cronaca giudiziaria crack del centro ippico chieste 18 condanne processo corrito abbreviato Fani rischia 4 anni e 8 mesi Ferruccio Ferragamo 2 anni la procura al processo corrito abbreviato per il crack del centro ippico toscano ha chiesto condanne fino a 4 anni e 8 mesi per 18 tra imprenditori e professionisti che hanno investito ruoli di consiglieri di amministrazione e sindaci revisori questo spiega il quotidiano il Corriere Fiorentino e poi l'altra notizia di cronaca giudiziaria domiciliari revocati e Lucarelli junior torna in campo con il Livorno ieri allenamento l'accoglienza della squadra Mattia Lucarelli figlio di Cristiano ex bomber del Livorno si è visto revocare gli arresti domiciliari con l'accusa di stupro di gruppo nei confronti di una ragazza americana con lui anche Federico Apolloni che aveva la stessa accusa su cui vende la stessa accusa siamo a Prato invece GG congelati i 65 licenziamenti e spuntano 6 possibili acquirenti Prato un anno di cassa integrazione per gli operai dell'azienda di pizze surgelate e su questa notizia che arriva da Prato ci vediamo il servizio di Toscana TG che è il numero 7 regia grazie per i 65 lavoratori pratesi di GG Italpizza verrà garantita la cassa integrazione che sarà attivata per procedura inoltre chi si aggiudicherà l'asta di vendita dell'azienda fissata per la metà di maggio dovrà garantire la produzione dello stabilimento di Prato il mantenimento di tutti i posti di lavoro e il contratto dell'industria alimentare verrà attivata quanto prima la cassa integrazione dalla procedura che partirà da domani voi da stanotte a mezzanotte tornerete tutti in CIA sarà retroattiva questa quindi da domani voi sarete in cassa integrazione gli acquirenti ci dicono che al momento sono sei noi abbiamo chiesto come garanzia al tavolo sicuramente il mantenimento del sito produttivo dei posti di lavoro e del contratto dell'industria alimentare l'accordo è stato trovato dal tavolo di unità di crisi convocato in regione a cui hanno partecipato oltre ai sindacati Cigelle, Fly e Cislefai una rappresentanza di Giogei Italpizza che aveva un contratto di affitto di impresa da Italfood che è fallita e di CIA l'azienda a cui sono tornati in carico tutti i lavoratori i costi che a questo punto passano tutti in carico alla procedura in nome di quel principio di responsabilità sociale dell'impresa saranno sostenuti dall'azienda che va via che si è impegnata nel medesimo accordo firmato al tavolo regionale a coprirli con il fatturato della produzione di Giogei contribuendo anche a mantenere in vita l'azienda fino all'asta con una percentuale di quel fatturato che verrà riconosciuta direttamente alla procedura in contemporanea con l'incontro in regione il PD di Prato il Comune una rappresentanza dei lavoratori hanno organizzato un presidio davanti allo stabilimento produttivo pratese presente anche il candidato a segretario del PD toscano Emiliano Fossi Andiamo all'interno del quotidiano del Tirreno partiamo da Livorno mercato i banchi si spostano sugli scali e in piazza Cavour accordo per il trasferimento durante i lavori al Buontalenti vedete il mercato oggi con le baracchine in ferro zincato e come sarà invece in futuro andiamo avanti con i titoli che riguardano sempre Livorno una bassa marea straordinaria scopre gli scogli per decine di metri lo spettacolo alla terrazza e ai tre ponti il docente di geologia spiega è un fenomeno normale stando ai siti specializzati il momento clou si è verificato domenica con un abbassamento di circa 20 centimetri andiamo all'interno del quotidiano il Tirreno parla l'amministratore delegato di Fendi la moda resterà in Italia solo se avrà lavoratori qualificati e c'è il drammatico problema della carenza di personale formato qui pochi giovani scelgono le scuole tecniche per questo vanno sostenute e poi sarti tessitori e modellisti mancano migliaia di figure chi cerca addetti specializzati ne trova solo uno su due e poi ancora all'interno vedete del Tirreno di Firenze in palio ancora 200 posti da Fendi si lavori di più sulle competenze per esperti e istituzioni si devono far conoscere le aziende alle famiglie se non si cambia si perde ricchezza ma anche l'identità del territorio intanto al Sassetti Peruzzi l'indirizzo per letteria però non decolla i giovani scelgono gestione social i dirigenti abbiamo avuto solo 4 iscritti non se ne comprendono le potenzialità spiega il dirigente scolastico poi siamo a Firenze sempre sul Tirreno viabilità e sicurezza ora trema via romana vibrazioni crepe e allagamenti come in San Frediano ogni giorno qui passano più di 500 bus è un inferno e poi ancora il Tirreno con la spinta green di Palazzo Vecchio che vuole la tramvia gratis per gli studenti Nardella oggi vedrà il ministro Picchetto Fratin per parlare dei progetti credo che il blocco degli Euro 5 si debba fare con una certa gradualità perché i mezzi sono tanti spiega Nardella a proposito del blocco degli Euro 5 come ci aveva spiegato venerdì l'assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio in realtà questo accadrà con una certa gradualità intanto la data del primo marzo è stata posticipata poi siamo a Firenze primarie nel PD Fiorentino risultati circolo per circolo Schlein Falbum all'isolotto Bonaccini a San Bartolo a Cintoia e poi siamo ovviamente anche all'area metropolitana effetto Schlein sulla corsa a sindaco nel Totonomi ecco Galletti e Artesi l'erede di Fossi potrebbe arrivare dall'ala più progressista dei democratici saluto Marco Stella consigliere regionale di Forza Italia che è con noi buongiorno e ben trovato consigliere buongiorno a voi allora partirei innanzitutto dai commenti post voto diciamo in Lazio e Lombardia anche in Toscana perché il sindaco di Pistoia Tomasi intervistato oggi da Repubblica dice nel 2025 vinciamo noi la nostra intervista ha detto dice praticamente che l'unità del centro-destra paga quindi diciamo per il centro-destra queste elezioni l'hanno dimostrato la scelta è quella di essere uniti coalizione è forte per vincere per guardare quello che bisogna fare innanzitutto alle amministrative prima ancora che alle regionali perché il 2025 magari è lontano insomma non basta certamente essere uniti perché se no avremmo vinto anche le elezioni del 2020 avremmo vinto Firenze nel 2019 credo che una delle condizioni sicuramente è quella di stare tutti insieme un'altra condizione è quella di partire in tempo abbiamo siamo forse siamo partiti troppo in ritardo sia nelle regionali del 2020 anche nelle amministrative di Firenze del 2019 la terza condizione è scegliere la persona giusta stare insieme tutti insieme partire in tempo con un progetto che sia credibile fatto sulle persone credo che il lavoro fatto dai consiglieri regionali questi due anni e mezzo sia la base di partenza per il programma futuro 2025 i colleghi di Fratelli Italia colleghi della Lega in questi due anni e mezzo hanno espresso non solo qualità a livello di opposizione ma qualità a livello di proposte di governo quindi possiamo certamente partire da lì la terza il terzo elemento necessario è scegliere sicuramente la persona giusta senza star dietro a quelli che sono gli interessi di partito alle percentuali lo scelgo io perché in quel momento sono quello che ha il gradimento più alto noi dobbiamo semplicemente prendere la persona giusta per la donna o l'uomo giusto per vincere la sfida della regionale il 2025 allora l'altro tema riguarda invece adesso ci arriviamo al super bonus in particolare il ruolo delle regioni anche lei come consigliere regionale si è mosso sulla vicenda intanto vediamo innanzitutto il tirreno di ieri il super bonus in tribunale valanga di cause incrociate boom dei contenziosi per il blocco dei crediti e l'aumento dei costi campieri fermi liquidità prosciugata e imprese sul loro fallimento questo ovviamente per l'impossibilità di cedere i crediti del super bonus tant'è vero che le banche sarebbero pronte allo sblocco in particolare Monte dei Paschi starebbe valutando l'acquisto dei crediti da bonus edilizzi per il 2023 ma si muovono anche le regioni in particolare la regione toscana oggi su Italia Oggi vedete i tecnici gabbati dal 110% gran parte dei professionisti non riesce a riscuotere i compensi dal super bonus a causa dei problemi con la cessione dei crediti e dei continui cambiamenti normativi allora qua ci sono cambiamenti su questa vicenda ci sono cambiamenti normativi praticamente continui ma detto questo lei volevo capire consigliere come vede la possibilità che la regione toscana lo stanno facendo anche altre regioni possa intervenire per acquistare per diciamo così rilevare i crediti fermi in questo momento del super bonus 110% io ho presentato grazie anche all'aiuto dell'onorevole Mazzetti che in Parlamento sta facendo un ottimo lavoro su questo tema una mozione in consiglio regionale lei sa come lo diceva prima alcune regioni hanno già cominciato a muoversi per ora solo la provincia di Treviso ha attivato questo meccanismo la Sardegna la Basilicata insieme alla regione Piemonte sono le tre regioni fra le regioni italiane che si sono mosse in anticipo studiando un meccanismo che consentisse cose alle regioni di acquistare i crediti da parte delle banche e di portarlo a sua volta a compensazione dei debiti che ha con lo Stato questo potrebbe sbloccare guarda in Toscana il super bonus ha attivato qualcosa come 4 miliardi di Euro quindi una mola importante di risorse per le aziende le banche come lei ricordava hanno smesso di comprare i crediti in particolare i crediti sul super bonus 110 il 50% per le ristrutturazioni edilizie tutti quei meccanismi che hanno fatto sì che finalmente l'edilizia si rimuovesse l'edilizia è un volano importantissimo per la nostra economia ma il fatto che le banche abbiano smesso di acquistare i crediti ha bloccato la cessione del credito e quindi molte attività ponendo anche interventi di contenzioso fra le aziende e le banche fra le aziende e lo Stato il cambio delle norme in corso d'opera certo non ha contribuito alcuni professionisti non sono stati addirittura pagati però non scordiamoci mai che questi bonus hanno come dire come caposaldo l'efficientamento energetico la messa in sicurezza degli edifici il rinnovo del patrimonio abitativo noi abbiamo patrimoni abitativi che sono vecchissimi quindi lo sblocco della cessione dei crediti o meglio l'acquisto dei crediti alle banche è un elemento che se dovesse succedere positivo le regioni potrebbero essere potrebbero innescare quel meccanismo virtuoso di acquisto dei crediti da parte delle banche facendo sì che le banche sblocchino a sua volta l'acquisto da parte delle ristrutturazioni dei privati quindi questo meccanismo è un meccanismo virtuoso io attraverso una mozione chiedo che la regione toscana segua l'esempio di alcune regioni in particolare la provincia di Treviso lo stava già facendo ma Sardegna Basilicata e Piemonte che sono già a uno stato avanzato di studio per l'acquisto dei crediti da parte delle banche senta a cambiare l'argomento prima leggevamo ovviamente una dichiarazione di Nardella sul tirreno di oggi relativa ovviamente alle auto diesel Euro 5 a parte che poi oggi c'è la notizia appunto del 2035 delle auto sole elettriche e quella è un'altra cosa che ci fa tremare i polsi che è arrivato all'Europa hanno perso completamente la testa diciamo le cose come stanno ma come si può pensare che tutti cambiano il proprio parco auto verso l'elettrico nel 2035 quando uno si compra un'auto elettrica non sa nemmeno dove ricaricarla quando se uno compra un'auto elettrica e la usa per lavoro oggi non fa più di 100 km perché non scordiamoci mai quanto costa acquistare un'auto elettrica quindi questa roba dell'Europa che dal 2035 ci dice che saranno tutte auto elettriche a me sembra l'ennesima follia che ci arriva dall'Europa che mi auguro i nostri rappresentanti del governo nazionale contrastino in tutte le maniere possibili non scordiamoci mai quanto vale l'automotive nel nostro nel nostro paese quanto valga l'indotto che questo muove come si può pensare di dire dal 2035 solo auto elettriche lo ripeto se uno oggi ha un'auto elettrica non sa nemmeno dove ricaricarla pensate alle tante partite di IVA i rappresentanti che si muovono in autostrada in superstrada e quanto dove si fermano a numero due quanto ci vuole per ricaricare un'auto elettrica cioè uno che lo fa di lavoro deve stare un'ora fermo per ricaricare un'auto elettrica quanto costa il cambio delle batterie per l'auto elettrica e soprattutto quanto costa l'acquisto di un'auto elettrica sono tutti temi a cui bisogna trovare una risposta senta invece tornando ai diesel Euro 5 Nardella basterebbe dire nel 2035 non è obbligatorio girare solo con un'auto elettrica questo credo che come dire tutto io credo che tutto il settore dell'automotive non soltanto italiano ma anche europeo si farà sentire poi vedremo le reazioni tutto quello che ne scaturirà però volevo sentire lei invece sul tema dei diesel Euro 5 a Firenze sul divieto perché ovviamente Nardella ha spiegato di una diciamo di un divieto che scatterà in modo graduale ricordiamo la data del primo marzo sicuramente sarà spostata in avanti però questo divieto che impatta su decine di migliaia di veicoli a Firenze c'è e quindi risulta risulta essere problematico voi cosa cosa dite come forza d'opposizione della regione allora intanto se c'è stato lo spostamento dal primo di marzo di una proroga questo bisogna dire grazie a Forza Italia a Marcella che è stato il primo a sollevare il tema dei diesel Euro 5 ricordiamo che il blocco dei diesel Euro 5 non doveva venire certamente il primo di marzo del 2023 ma doveva scattare dal 2025 l'anticipo di due anni è dettato da una legge regionale che prevede che se c'è uno sforamento continuo e allora si arriva a quel blocco lì a Firenze c'è stato questo sforamento io credo che sia un'altra follia io mi batterò con tutte le mie forze per far sì che i diesel Euro 5 che sono diesel che non inquinano questo va detto chiaramente con grande forza non vengano bloccati nel 2023 ma che si arrivi al 2025 così come era come era previsto perché cambiare un'auto oggi costa lo dobbiamo ricordare noi usciamo da un periodo molto difficile dalla pandemia le nostre imprese si stanno le nostre attività commerciali riprendendo ora le famiglie sono ancora in grande difficoltà dovuto pensiamo a chi ha un mutuo quanto costa un mutuo a tasso variabile con l'inflazione di oggi diciamo anche che deve addirittura cambiare l'auto e poi uno degli altri temi è che cambiare un'auto costa tantissimo gli incentivi non ci sono o sono talmente bassi che sono assolutamente inutili il secondo tema è che se uno va a ordinare perché i nostri politici purtroppo non lavorano se uno va oggi in concessionaria a ordinare un'auto va bene se gli arriva fra un anno un anno e mezzo e in questo anno anno e mezzo che la macchina non è arrivata e che ha ancora l'euro 5 cosa fa? qui siamo veramente alla follia i politici dovrebbero lavorare io do un suggerimento al sindaco e al presidente di regione andate in concessionaria a chiedere quanto tempo ci vuole per avere oggi un'auto nuova e quanto costa e quanto sono gli incentivi poi fate due conti e vedete quanto pesate nelle tasche dei fiorentini non solo aggiungo stella in chiusura l'articolo di Repubblica di oggi che parla della gelata sui mutui perché? perché con l'aumento dei tassi c'è stato un calo a doppia cifra percentuale della richiesta dei mutui quindi questo ha anche impatto poi sui finanziamenti perché poi per comprare l'auto chi riesce a comprarla magari deve accedere a un finanziamento e questa è un'altra problematica che c'è nell'acquisto guardi e noi assisteremo mi perdoni se la interrompo tra tre o quattro mesi a persone che hanno comprato una casa che non saranno in grado di pagare il mutuo perché l'incidenza dell'inflazione sui tassi è altissima si fermerà il mercato immobiliare per questo occorre anche sbloccare i crediti dei super bonus l'acquisto dei crediti dei super bonus da parte delle banche grazie a Marco Stella consigliere regionale di Forza Italia che è stato con noi grazie a voi buona giornata noi terminiamo qua questa puntata di Refresh ci troviamo domani mattina puntuali come sempre dalle 6.50 Andrea Vignolini a tutti voi l'augurio di una felice giornata Ale grazie a tutti